Buongiorno sensori e bentornati sul nostro canale eccoci qua su un'altra hypercar in ordine cronologico l'ultimo hypercar che ho provato è stata la Ston Martin Valkyria una bomba ora mi trovo, vedete già riconosciuto sulla Zonda Pagani R anzi sulla Pagani Zonda R altra macchina che segue lo schema della Valkyria ma in maniera meno estremo nel senso ci hanno messo un motore meno performante che per meno performante è una parola grossa non ha nessun sistema ibrido si ferma intorno ai 700 cavalli ma poi nella sua realizzazione non è stata seguita nessuna regola tant'è che non è idonea alla circolazione su strada e non è idonea percippare a nessuna gara attualmente organizzata è però decisamente meno estrema cioè non non dà l'idea di guidare una Formula 1 dà l'idea di guidare un hypercar una macchina inconsueta una macchina fuori dagli schemi ma non arriviamo ai livelli dell'Aston Martin il che forse è un bene questa non è una mod è un'auto realizzata da Kunos è un'auto comunque che ha la sua età a qualche anno ma è un'auto che tutti noi vorremmo in garage se vi ricordate con l'Aston abbiamo girato il 1.35 qua è impensabile anche perché la velocità massima in fondo è 70-80 km inferiore all'Aston Martin però adesso basta fare paragoni perché sono due auto diverse e valutiamole come due auto questa è aumentata le coperture slick offerte generosamente dalla casa e definirei questa macchina come una lometta di rasoio attualmente ho il Traction Control 2 lo mettiamo al 3 vi ricordo che con assetto corsa più salite con il numero del Traction Control meno è invasivo io per anni ho scoperto e per assurdo le Hypercar se non tagliate troppo la potenza diventano più guidabili perché vi permettono di chiudere meglio la traiettoria dando un po' un po' Se l'accompagnate fino al punto di corda rilasciando velocemente il freno, la macchina sta piantata per terra con un anteriore pressoché granitico. Stiamo concludendo il primo giro pieno staccando un tempo di pieno e 50, tanto per avervi un'idea, quando andrò a provare l'FKK che è molto più potente di queste, vedrete che i tempi sull'FKK hanno una differenza a favore dell'FKK di solo un paio di secondi. Abbiamo anche 300 CV più di 200, se non me lo ricordo, chiedo scusa sui dati, io non sono un bravo scolaro. Questo vuol dire che questa macchina guadagna molto in equilibrio, difatti è equilibratissima. Quello che gli manca è un sound particolarmente gratificante, quantomeno nel simulatore. Anche perché se vi andate a guardare la prova che ha fatto Jeremy Crabson con Top Gear, è dovuto scendere e mettersi le cuffie. Quindi il discorso Sado non è relativo alla macchina, ma è relativo alle mie impostazioni audio. Che sono limitato quando faccio il video perché uso delle cuffie che mi devono rientrare nel casco. Oh, l'assetto corsa in sé. La macchina invece è da guidare, è veramente veramente piacevole, gratificante. Ok, abbiamo già rotto il muro dell'1.50, 1.49. Non è quello che voglio andare a valutare, ma guardate come man mano che la guido, io non faccio prove molto lunghe, riesco a stare più vicino possibile al punto di corda. Non è troppo, però guardate che bello, riesco a sfruttare tutta la pista al Mugello, è fantastico. Mi ricordo la prima volta che corso è al Mugello, volevo uscire. Mi chiesi ma quanto cazza grossa sta pista? Dove ho deciso di mettere le ruote? Al quinto giro non volevo più uscire. È la pista più bella del mondo. A cavallo l'Imole, almeno tra quelli che il povero sfigato qua ha provato, ma comunque a noi italiani, infatti, di pista non ce le manda a dire nessuno. Potete dirmi che è bella anche Spa, potete dirmi che ce ne sono di stupende di piste, ma al Mugello l'Imole non me le potete toccare. A Imole ho avuto davvero paura. L'ho ammettato il Mugello o no? Dopo un po' capisci una cosa. Il bello del Mugello è che quando entri in una curva, bene o male, hai già una visione di ciò che ti succederà dopo. A parte la bugine che ho tornato una, però io qua sono uscito dritto a 160 km all'ora. Mentre a Imola, quando entri in una curva, non sai come ne esce. Quindi sono i due estremi particolarmente belli di queste due piste. Utiliniamo ancora qualcosine. Abbiamo rimato ancora qualcosa. Questa macchina è una macchina affinata per confrontarsi con se stessi. Non riesco a girare il mio 49 al Mugello senza avere in mano una vera e propria macchina da corsa. Perché comunque, lo è ma non lo è. È tanta roba. La maggior parte dei comuni mortali non uscirebbe vivo da questo abitacolo. Oppure girarebbe in versione bradico. Perché poi una volta che si fa paura, quando i 700 KV ce li hai davvero sotto il culo. Ecco, questo non lo fai quando sei da zero lì. Guardate come vi accompagna nella curva. Bene, ragazzi. Stupenda anche la Zonda R. Adesso decidiamo quale sarà la prossima hypercar da provare. Concludiamo il giro. Andiamo ai box. Vi pregerò di un video in esterno. Che ve lo pubblicherò separatamente a questa prova. Grazie a tutti. Sector 2 è 0.8, off the pace. Guardate come la 918 sta facendo l'attacco, non è l'ultima arrivata, certo è un'auto costruita secondo altri concetti, guardate che motore ne ha come avete visto, tanta roba, tanta roba ragazzi, tanta, 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 bene, zonda R, macchina fatta da Kunos, quindi alla quale non si può dire niente perché sappiamo che sono coloro che questo gioco lo hanno realizzato quindi non possiamo pensare che questa macchina abbia dei difetti, difatti non ne ha, è perfetta, è equilibrata, è divertente, ora io chiudo il video, ne faccio un filmatino in esterno e ve lo posto separatamente, grazie per essere stati con me, alla prossima, ciao sensabri